Bene amici, rispondo e come se rispondo ad uno dei quesiti che più spesso mi state facendo nei commenti. Quindi, questo benedetto reddito di emergenza, che tanto utile è stato nei difficili mesi di pandemia, verrà prorogato fino a fine anno? Bene, vi dico perché sì e anche perché no. Io sono Mr. Lul, sigla prima, però mi raccomando, like, iscrizione, campanone, condivisione, abbonamentone se volete sostenere il canale. Sigla! Dunque, si sono appena chiusi i termini per presentare proprio le domande di REM-BIS, le famose quattro rate introdotte un po' a sorpresa, diciamocelo, dall'esecutivo con l'ultimo decreto sostegni, ovviamente, BIS. E tanti di voi, dopo l'annuncio ufficiale anche della proroga dello stato di emergenza, si aspettano che, di pari passo, possa proseguire anche la previsione e l'erogazione di nuove rate del sussidio del REM. Ecco, a sostegno di questa tesi ci sono sicuramente alcune evidenze. La prima, la maggioranza dei migliorissimi apprezza questo strumento, non lo vede come il fumo negli occhi perché non si chiama RDC e, pur essendo nato sotto il vessillo della ministra 5 Stelle Catalfo, viene riconosciuto come un paracadute utile, soprattutto per arrivare a quelle situazioni di povertà, indigenza e difficoltà che il reddito di cittadinanza non riesce a coprire per i suoi requisiti eccessivamente stringenti. Il ragionamento, e ci sta, è se proroghi lo stato di emergenza, beh, vuol dire che siamo in emergenza ed è necessario prevedere altre rate di reddito di emergenza. Come però già dissi qualche tempo fa, sicuramente verso la fine di settembre sarà fatta una valutazione sulla necessità o meno di intervenire con nuovi aiuti, che siano generalizzati oppure specifici per alcuni settori. E sicuramente in questo nuovo pacchetto potrebbe trovare il suo meritato spazio anche la proroga del REM. Ci sono però anche degli indizi a sfavore, tipo non esiste una certezza matematico-giuridica che preveda un automatismo tra stato di emergenza e prosieguo del REM. E soprattutto esiste un problema di fondi. Ci sono le coperture, andranno trovate, vorranno trovarle e soprattutto serviranno altri scostamente di bilancio? E a questo punto cosa ne dirà l'Europa anche visto il nostro, insomma, imponente deficit? Ma un'altra ragione per il no arriva, pensate un po', dal Ministero del Lavoro. O meglio, il REM non piace al Comitato Tecnico che è istituito proprio presso il Ministero del Lavoro, che spinge invece per una revisione dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, quindi con un allargamento della platea dei possibili beneficiari, a cui seguirebbe ovviamente una abolizione del REM, o meglio, un assorbimento di questo sussidio temporaneo all'interno di quello che è il sussidio strutturale. Quindi, non è che io nei commenti non voglia rispondere a questa domanda, ma nessuno, in questo momento, o almeno non io sicuramente, può avere la certezza di cosa accadrà tra un paio di mesi, con l'avvento dell'autunno, né sul REM, né su eventuali nuovi bonus onnicomprensivi per lavoratori stagionali, intermittenti, atipici, eccetera, eccetera, né sulla piega che prenderà quella piaga, che ormai è diventata veramente una piaga, una leggenda, di revisione e riforma del reddito di cittadinanza. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, mi raccomando, se il video è stato utile, like per sostenere il canale, iscrizione col campanone per non perdervi i prossimi aggiornamenti, e se volete sostenere il canale, beh, c'è anche il tasto abbonamentone. Alla prossima, grazie da Mr. Lull.